ciao a tutti oggi come promesso il video che mi avete richiesto in tantissimi ed è un video riguardante tutte le spazzole per la pulizia del viso che ho provato io fino ad oggi questa è la spazzolina di Kiko non è una spazzolina elettrica ma è una semplicissima spazzolina che appunto si acquista nei negozi di Kiko al prezzo di 8-9 euro se non sbaglio però non mi ricordo se io l'ho acquistata in offerta o seppure era a prezzo pieno in ogni caso costa poco ugualmente ed è appunto questa spazzolina qui che ha delle setole molto molto morbide e all'interno ha anche delle setole non so se riuscite a vederle bene delle setole di gomma che danno un effetto massaggiante durante la pulizia dunque questa spazzola è una spazzola molto molto delicata quindi va adattissima per le pelli delicate non sono certa che per pelli che hanno bisogno di più cura o di una pulizia più forte questa spazzolina possa andar bene è comunque molto delicata e pulisce sicuramente meglio che non con una che non una normale pulizia come per esempio può essere con direttamente con le mani o con una spugnetta al primo utilizzo comunque si nota la pulizia della pelle e poi per i miglioramenti insomma c'è bisogno di più tempo come dicevo prima io la consiglierei a delle pelli molto delicate o pelli che non hanno bisogno di molta cura quindi che sono già belle di suo questa è la spazzolina elettrica che ho acquistato da lidl l'ho acquistata al prezzo di 15 16 euro vi mostro cosa c'è all'interno della scatola dunque all'interno della scatola c'è appunto l'impugnatura per la spazzolina è comunque un'impugnatura molto comoda e poi ci sono le tre spazzoline una per le pelli sensibili e delicate una per tutti i tipi di pelle e questa che invece è per lo scrub io ho utilizzato solo le prime due questa qui per la pulizia quotidiana e questa qui diciamo per la pulizia più profonda in realtà queste due sono pressoché simili per quanto riguarda la morbidezza diciamo che quella per lo scrub ha le setole più compatte quindi penso che abbia semplicemente un maggior numero di setole si va a posizionare la spazzolina scelta semplicemente andando a premere e poi qua ci sono due pulsanti une per la velocità questa è una spazzolina che ha doppia velocità che appunto si possono scegliere e poi questa è per cambiare il metodo di pulizia questa è una spazzola rotante quindi quando si va a premere il pulsante ruota da un lato quando invece si va a premere sul pulsante ha un oscillazione quindi fa un giro in senso orario e un giro in senso anti orario è una spazzolina con cui io mi sono trovata bene credo che sia una spazzolina un po aggressiva nel senso che io pur utilizzando la spazzola sensibile alla fine si sentivo che la pelle era davvero molto molto intersa e molto pulita penso però che appunto questa pulizia a rotazione è probabilmente più adatta a pelle con impurità o con alcuni problemi insomma per quanto riguarda la pelle appunto bisogna prestare attenzione a quanto si preme appunto la spazzola sul viso perché durante la rotazione rischiate insomma che se premete troppo forte la pelle venga tirata troppo e quindi potrebbe diventare un po stressante per le pelli del viso più sensibili comunque è un prodotto che sicuramente pulisce molto molto bene e che io ripeto consiglio secondo me per pelli che hanno bisogno di più attenzioni di una pulizia più profonda cosa mi è piaciuto di questa spazzola di questa spazzola mi è piaciuto assolutamente per quanto riguarda il prezzo mi è piaciuto la scelta di poter scegliere sia la velocità che il metodo di pulizia e mi è piaciuto comunque anche il fatto che la spazzola sia una spazzola rotante di questa spazzola cosa non mi è piaciuto invece non mi è piaciuto il fatto che andasse a batterie ho trovato che fosse davvero molto molto scomoda questa scelta di far funzionare appunto la spazzola a batterie inoltre ho avuto moltissima difficoltà la prima volta che ho aperto il vano delle batterie la parte la chiusura resta comunque sempre con questa fessura un po aperta insomma e non è mai insomma chiuso perfettamente resta sempre un po aperto un'altra cosa che non mi è piaciuta affatto è il fatto che ho dovuto cambiare batterie ogni settimana le batterie che si utilizzano per questa spazzola sono delle batterie a 3a quindi quelle piccoline le batterie stilo più piccole insomma e appunto ripeto ogni settimana ho la necessità di cambiare le batterie adesso non so se è un problema della spazzola che ho acquistato io o se di tutte le spazzole questo è praticamente il motivo per cui ho scelto di acquistare un'altra spazzola per la pulizia del viso e ho acquistato appunto questa qui che è la bellissima di Imetec che ormai avrete visto e rivisto milioni di volte e che avevo desiderio di acquistare un sacco di tempo fa ma che non ho mai avuto la possibilità di farlo a un certo punto mi sono ritrovata che era in offerta a poco più di 30 euro in negozio quindi non mi sono fatta perdere l'occasione e sono andata ad acquistarla poi all'interno della scatola ci sono come nell'altra c'è appunto la spazzola e poi ci sono tutte le spazzoline questa è la spazzolina per le pelli sensibili che ha le setole molto molto morbide questa è la spazzolina per tutti i tipi di pelle che ha le spazzole più rigide rispetto all'altra questa è la spazzolina per lo scrub questa è la spazzolina in lattice per le creme o per il tonico e questa è la spazzolina per il massaggio che ha questi tre pallini diciamo così di gomma in più all'interno ci sono le batterie e anche nell'altra c'erano solo che le avevo già utilizzate e poi c'è anche questo che è la base di appoggio della spazzola io ero convinta che questa base di appoggio fosse una base di appoggio dove appunto inserire all'interno la mia spazzolina e dove si sarebbe caricata in realtà non è così perché anche questa spazzola funziona a batterie e questa è semplicemente una base di appoggio per tenere la spazzola in piedi dentro l'armadio o sopra il lavandino o dove volete insomma dunque come vi dicevo prima anche questa va a batterie questo è il vano per le batterie è decisamente molto più semplice ad aprire e si chiude completamente di questa spazzola io ho utilizzato moltissimo questa spazzolina qua per le peli sensibili e la utilizzo per la pulizia dei tutti i giorni e utilizzo la spazzolina per pelli normali per una detersione più profonda quella per lo scrub non l'ho ancora utilizzata perché ho paura che sia troppo aggressiva anche quella perché comunque si sente che ha le settole più rigide già questa ce le ha decisamente più rigide rispetto a questa qui infatti si sente che questa pulizia è decisamente più profonda rispetto all'utilizzo di questa spazzola poi l'altra spazzola che è questa qui quella per la crema è anche questa una spazzola molto molto buona fa assorbire molto più velocemente e molto più a fondo la crema e però l'unica cosa che posso dire di questa spugnetta qui è che tende a rovinarsi molto in fretta rispetto a tutte le altre spazzoline e poi è davvero molto difficoltoso andarla a pulire e resta umida per un sacco di tempo quindi credo proprio ci sia la necessità di cambiare questa spazzolina molto spesso la spazzolina per il massaggio invece ha questi tre pallini che vanno a attivare tutta la microcircolazione del viso e vi assicuro che pur essendo una di quelle spazzole che io credevo non avrei mai utilizzato in realtà è una di quelle che mi piace di più davvero una spazzola molto 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 utile questa spazzola per la pulizia del viso a differenza dell'altra non ha un movimento rotatorio ma vibra ha solo un bottoncino che si appunto alza per accenderlo e abbassa per spegnerlo è un bottoncino un po' particolare perché comunque essendo molto liscio e avendo anche insomma essendo anche molto piatto non è molto comodo soprattutto quando si ha le mani bagnate scivola via ed è davvero molto difficile insomma ad andarlo ad accendere e spegnere io trovo davvero difficoltà non so se sono solo io che sono un po' impedita insomma o se questo problema l'avete notato anche voi cosa mi è piaciuto di questa spazzola? di questa spazzola mi è piaciuta intanto la numerosa scelta delle spazzoline perché ce ne sono ben 5 ed è oltre quella per le pulizia c'è anche quella per la crema e quella per il massaggio che l'altra non ha e che però in realtà sono molto utili un'altra cosa che mi è decisamente piaciuto è il fatto che queste batterie qua dopo un mese e mezzo di utilizzo ancora non le ho cambiate quindi la durata delle batterie è decisamente molto molto più lunga rispetto a quella dell'altra spazzola un'altra cosa che mi è piaciuta che però inizialmente era una di quelle cose che non mi aveva convinto è il fatto che abbia appunto una pulizia a vibrazione magari inizialmente potrebbe sembrare che la pulizia non sia profonda in realtà pulisce davvero molto molto bene pulisce bene proprio come l'altra spazzola però in modo più delicato quindi quello che io inizialmente pensavo fosse un difetto perché ero convinta che anche questa spazzola avesse un metodo di pulizia rotatorio in realtà è un grandissimo pregio perché ripeto ha lo stesso identico risultato di pulizia molto profondo però in un modo molto più delicato cosa non mi è piaciuto invece di questa spazzola è appunto la vibrazione che però adesso ripeto è diventato un pregio e non più un difetto non mi è piaciuto il fatto che questa base fosse soltanto una base di appoggio e non una base di ricarica ma anche in questo caso non è del tutto un difetto perché comunque le batterie durando molto a lungo non sento insomma la necessità di avere alla fine una base di ricarica elettrica un'altra cosa che probabilmente non mi sarebbe piaciuto sarebbe stato spendere 50 o 60 euro per questa spazzola perché comunque è un prezzo molto alto io credo che i 30 euro che ho speso io siano più che sufficienti per una spazzola come questa questa spazzola la consiglierei davvero a tutti perché data la numerosa scelta delle spazzoline da quella per le pelli più delicate a quelle per le pelli più impure ha sicuramente un ottimo livello di pulizia decisamente più alto rispetto a una normale spazzola oppure una normale pulizia appunto con le mani o con la spugna quindi secondo me è una spazzola che davvero è utile per tutti detto questo io spero che il video vi sia piaciuto che vi sia tornato utile in qualche modo lasciate un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto se avete qualche richiesta qualche domanda qualche altro dubbio potete lasciarmelo scritto nei commenti io vi risponderò con molto molto piacere con questo è tutto e io vi aspetto al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti